Ci piacciono di più e le premeremo con una bella cassetta con tutti i successi dello zecchino d'oro. Ecco, vi ricordo ancora una volta come fare per poter partecipare al vostro concorso. Allora, per prima volta dovete portarvi dietro sempre una macchinetta forrata. E poi, quando vedete una cosa spravagante, strana, allegra, che può sottolineare la vostra estate, subito cliccate, fatevi una fotografia. Per esempio, se vedete uno scignone che balla il twist, così voi fate la fotografia. E poi spedite le vostre fotografie al nostro indirizzo. Vediamo se qualcuno può trovare un cimino.